Il dato di Ferrero però, non basta dire che devo andare di tra, di tra, è inguantabile, è uno schifo, la donna non riesce a trovare neanche un indirizzo se non glielo dare. Io, guarda, quando vedo una donna che cerca un indirizzo in macchina, mi viene il punto a guardare. No, però adesso basta all'armare degli anticapati. La donna è come una porta, va penetrata, questo non è cersismo, questo è calcio tra... Signore e signori, la visione crozza, venga poco, 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 poco.